In occasione delle festività natalizie ormai prossime, ad Agropoli si è dato il via all'accensione delle luminarie artistiche che coloriranno la cittadina agropolese fino al 6 gennaio 2019. Per l'occasione era presente anche l'assessore, con delega alla pubblica istruzione Rosa Rampasona, che ha delineato il nuovo progetto pensato per il Natale di quest'anno nella città di Agropoli. Speriamo che con questa novità di quest'anno, perché è la prima volta ad Agropoli che si è pensato di fare questo tragitto così importante e lungo, che permette di far vedere anche tutto quello che è la nostra città di Agropoli. Sicuramente sarà la gioia dei piccini, ma anche dei grandi, si presuppone. E' importante dire che è un progetto nuovo, che parte come vedremo già oggi, è partito in parte e l'otto finirà il progetto completo, quindi da Piazza della Repubblica, via Piave, si è cercato di prendere tutto il centro cittadino, ma sicuramente la parte importante è il castello, che fino ad oggi forse non era stato mai valorizzato durante il periodo invernale. Molto valorizzato, con manifestazioni, spettacoli durante il periodo estivo, l'inverno un po' meno. Quindi questo ci potrà permettere di far sì che anche i più piccini possano arrivare in questo luogo, che è fantastico, già da solo, però logicamente illuminato con questa illuminazione particolare, con la casa di Babbo Natale. Io penso che non solo i bambini, ma forse anche noi grandi, possiamo tornare un po' bambini, che è quello che manca oggi, l'innocenza dei piccoli, riportarla anche nei grandi. Quindi immagino questo percorso dalla piazza a salire su, facendo questo fantastico percorso che è il castello, quindi può creare quell'atmosfera magica che è aiutata tramite questo progetto importante che è stato realizzato. Noi l'abbiamo voluto fortemente come Comune, però sicuramente chi l'ha realizzato, il merito è di queste persone che ci hanno creduto in questo progetto, che ce l'hanno fatto visionare e che noi abbiamo approvato. Per cui chiedo a tutti i bambini, ma sicuramente i genitori che portano i piccini, perché i bambini da soli fino a un certo punto possono arrivare, quindi portateli, facciamo anche una pubblicità sicuramente nelle scuole, ma non solo nel nostro paese, ma tutti i paesi limitrofi, possa diventare un'attrattiva unica, perché Salerno ha delle cose particolari, ma noi forse il castello ce l'abbiamo noi ad Agropoli, quindi valorizziamolo e noi grandi possiamo tornare anche bambini insieme ai nostri figli, più piccoli ma anche i bambini più grandi. Quindi invito tutti a visitare questo scenario, che è veramente uno scenario magico, possiamo dire, con tante sorprese che vivrete e potete poi anche riportare agli amici e farli venire anche da fuori. Quindi speriamo che questo mese, da oggi fino a dopo la Befana, ci possa portare tanta gente, Agropoli in primis, perché invito tutti gli agropolesi, dai più piccoli ai più grandi e anche gli anziani, perché no, a far rivisitare e rivivere questi momenti magici, che poi è il Natale, con tutte le sue magie e tutte le sue bellezze. Dove trascorrerà le festività natalizie l'assessore Lampasona? Spero a casa, nel senso che spero a casa, indipendentemente dal mio lavoro che faccio. Quindi ad Agropoli? Sì, sì, ad Agropoli. La magia del Natale la viviamo ad Agropoli, con questa grande novità, che sicuramente sarà ancora più piacevole a casa, con gli amici e con i miei parenti. Grazie.